L'auto sfonda la porta del negozio, poi l'azione fulminea, ripresa dalla telecamera, i ladri entrano e fanno razzia. Quando non utilizzavano le auto come a Rieti, sfondavano le vetrine a colpi di martello o tagliavano le saracinesche ed entravano dai pertugi. 17 furti in attività commerciale, 9 furti di auto, 4 assalti a supermercati. In tre mesi la banda di predoni, sgominata dai carabinieri di Piove di Sacco, ha compiuto colpi in tutto il Veneto, da Padova a Verona, da Venezia a Treviso, passando per Vicenza. Si sono spinti anche in provincia di Pordenone. In carcere un quarantenne moldavo ritenuto essere il capo della banda e un 25enne romeno, obbligo di dimora per un complice moldavo e per due donne, sempre moldave, che facevano la guardia e il covo della banda trovata a Sant'Angelo di Piove nel Padovano. L'indagine è partita dopo il furto di tre veicoli in una concessionaria di Cittadella e in una ditta di Casale Sul Sile. I carabinieri hanno ricostruito i movimenti della banda grazie al monitoraggio delle targhe delle auto rubate. L'indagine parte dal monitoraggio di alcune vetture rubate che ci risultavano apparire sui lettori targhe e che venivano sempre anticipate o precedute da delle macchine pulite che venivano usate appunto in esito ai furti d'appoggio. Da ottobre a dicembre 2022 i furti si sono susseguiti, obiettivi preferiti, stazioni di servizio, tabaccherie e supermercati come il colpo in un alimentare di fiesto d'artico dove hanno sradicato la cassa automatica. La banda si spostava anche fuori regione. Per due volte in provincia di Arezzo e in provincia di Verona una volta hanno abbandonato la macchina in autostrada scappando a piedi tra le corsie e in una successiva occasione hanno abbattuto la barriera autostradale finendo poi la corsa gettandosi nelle acque del fiume mincio. Il quarantenne Moldau è stato fermato ad Asti. Il covo individuato a Sant'Angelo di Piove era presidiato da due donne che avevano il compito di smerciare l'area furtiva. I carabinieri all'interno hanno recuperato oltre 10.000 pacchetti di sigarette, migliaia di gratte e vinci e merce rubata per 150.000 euro. Recuperate e restituite a legittimi proprietari anche 14 auto. Grazie a tutti.